Ma secondo voi chi è stato il boss più spietato? Quello che possiamo dire con assoluta certezza è chi è stato il boss più fest di tutta la camorra napolitana. A nome di tutti i commercianti del Lione vi chiediamo un piccolo sconto sul contributo mensile che vi dà. Un sconto? No, no, ma è una sciocchezza, roba di poco. Il 20%. Il 10%. Ma tu perché vuoi fare questo lavoro? I muovacallà, i ucci! Il Tonino non è fesso. Veramente, così cosa è brutto lato, no? Il Tonino è buono. Sono fesso, sono fesso! Ma nonno, ma che lettino vostro figlio? Ma chi è che lo scemo? È il figlio di un magistrato. Lo capisci che è brutta gente? Nonno! Ma non ti potevo mettere con un bello pregiudicato come fanno tutte le ragazze del quartiere? Perez, Perez! A chi? A chi? Non dovete avere stress voi, non stress voi. Non è ufficiale, tu sei strunzo. L'ho trattato con tutti i riguardi. E non ha nonna... E non ha buon male... E non ha buon male... Che stai facendo? Sono andata nonna nonna, per farvi commentare. È un malitanza sia... Capita, poi mi dovete aiutare. Io mi impegno. Andoni, i cascchi! Lascia l'occhio, nessuno tocca niente. Ci prova a fare cose buone, ma... Si hanno fatto il tuo mezzo. Ma vabbè, però ci hanno rimasti i cascchi. Non è facile. Sto spenendo! Sto spenendo! Sto spenendo! Sto sfortunato. Lascio questo qua. Ma se mai ci date un occhio, voi? Vabbè, non proprio un occhio. Mi ha girato uno sguardo. Sto sfortunato. E' una di danza sia...